In tema di assegna di mantenimento da parte dell'altro conge, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del conge richiedente di collocarsi o meno utilmente ed in relazione alle proprie attitudini nel mercato del lavoro. Grazie a tutti.